Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Ma te che quanto tanto mi fai stedito? No, è sempre come quello di prima. Che mi fai sto spiegone. Sempre da la stessa maniera. Crisi di governo, diciamo io mi limito ad accompagnare perché non vorrei dire fregnacce. Oggi che giorno è? 14 luglio oggi. 14 luglio. Crisi di governo di 14 luglio. Crisi di casco pure. C'è la fiducia al Senato e Conte. E Conte e Draghi. Perché hai scelto il diarace per fare questa... Dove non siete un cazzo. La solita grazia. Vai. Ma te l'ha trovata la squadra? Punto, dico, non avendo trovato squadra, avendo crisi di lavoro. Crisi di panchina. Crisi di panchina. Mi tolto a fare, mi rendo utile per la patria. Dice, cosa fanno i calciatori quando smettono? Ecco, tipo... Il fiegonio, come è il fiegonio? Vediamolo, i grezzoni. Aiutano l'informazione a documentare. Propagandiamo. Bravo, propagandiamo. Vai, sempre dritto, Senato. Quanto hai messo? 29 euro il T-Max. Una volta? Mi diceva al mio quartiere che quelli con T-Max facevano le rapine. Gli scippi, adesso gliele fanno le rapine, vanno a fare benzina. Senato, dobbiamo andare al Senato. Senato, Senato. Una farmacia, io al Senato. Che c'hai? Farmacia, il Senato. Farmacia, dove c'hai la farmacia. Quello era Palazzo Grazioli. Sì. Adesso questa è Piazza del Gesù. Sì. Vecchia sede della democrazia cristiana. Ovviamente. E là dietro c'è via delle bottegoscure. Ovvio. Questa alla destra è il Senato. Sì. Questo che? Bandiere. Grazie, amico. Mi sono staccato il coso qua. Bocca a lui, buona giornata. Io ti faccio sapere. A giornami, a giornami. Se nel frattempo trovi una squadra... Dici che è trova la fine della crisi. E tra la fine della crisi trovi una squadra. Finisce la crisi. Io orgo me. Eppure te hai la tua piccola crisi. Grazie. Dai. Un applauso a Daniele De Rossi. Grazie. Buon anno. Grazie. Grazie. Grazie.